Stiamo già assistendo alle prime fasi di gioco con la prima manovra dell'Angelico questa sorta di alto basso per Johnson a pescare sotto Mavut con Ceduca Becchi, ex Biella se nessuno si è salvato da quella squadra è tutta gente nuova gente efficace uomo contro uomo adesso chiama Bucchi dalla pancina ancora Travis, ancora Sacchetti, Bryan, ancora Travis non li dà, guarda, Travis tiene sempre di addosso arresta e tiro, ancora di Travis i pericoli vengono da più parti per quanto riguarda il tema offensivo di Bridges Barbor prova la penetrazione, lo scarico di tanto nelle mani al di là della sua stazia perché la palla non era semplice da controllare è veramente di tocco ha messo dentro questo maestro Simons che deve difendere rimessa lunga di Cavaliero per Crosariol ancora Cavaliero, premente 47-42 si alza anche il volume qui a palla per Tassuglia Simons ruba palla Vigiano 3 contro 1 Vigiano schiazza con passaggio da Vigiano 3 contro 1 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 si semplicherò il terpicherò l'esterno il round va dentro palla per mettere in partita Kasun che va a realizzare Kasun quando riceve palla e la... Vigiano 3 contro 1